Sì, sì. Allora, fate una rotonda e poi arrivate lì. Siete capaci? Sì, I know Bellini. You know Raju Gandhi? You see? Come you see? We are from India. Sì, sì, ho capito che siete indiani. Raju Gandhi is our Prime Minister. Sì, Sonia, sì. His wife is Sonia. Sì, però non so, io non li conosco, non so chi sia. Oh, who can talk to me? In English? School? Any school, teacher? Any English school? Computer school? No, no, no. Qui Arbasano? Sì, 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 c'è la biblioteca. Biblioteca dove ci sono i book, i libri. Ah, yeah, yeah. In biblioteca, sì. Where is it? Bisogna andare in centro al Bassano. Centro? Centro al Bassano, centro. Centro al Bassano. Centro al Bassano? Sì. Sì. Per andare, per poter utilizzare il computer, almeno quello che ho capito io, qui in Orbassano, dovete andare in biblioteca, lì penso sia possibile. Sì. Dove c'è la biblioteca? La biblioteca è proprio nel centro di Orbassano, dovete... Che via è? Io la metto in navigatore e la trovo sui. Il problema? Io le vie non le conosco. No, sono un problema. Sì. Do you mind coming down? Aspetti eh. No, Torino no. Sì. Sì. Sì.